Più di 3.000 utenti unici connessi da tutta Italia, 17 grandi ospiti a intervenire e 5 tauri di lavoro. Sono i numeri che segnano il bilancio di Future Day Pesaro Next Generation, l'evento trasmesso anche su Rossini TV e che ha coinvolto 350 tra professionisti, esperti, privati cittadini e amministratori locali in un dibattito nazionale incentrato su progetti, idee e visioni da mettere in campo nell'era di ripartenza post-Covid. Diversi quindi protagonisti dell'evento, che ha avuto come temi cardine l'importanza dei futuri investimenti economici e la svolta green e digitale su cui impostare la ripresa locale e anche nazionale. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha sottolineato come le risorse che arriveranno dall'Europa andranno a rinforzare sanità, mobilità, edilizia e infrastrutture della città, ma anche dei borghi e dell'entroterra. Protagonista anche il settore della cultura grazie all'annuncio fatto dal vice sindaco Daniele Vimini, il quale ha dichiarato la candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2024. Crediamo che sia una sfida non solo alla portata di Pesaro, ma che sia, siccome è già quella sfida, così come i recovery plan seguono quella che è l'agenda dell'Azioni Unite 2030, quella che è l'agenda di una progettazione che tiene insieme produzione, cultura, nuovo modo di abitare, nuovo modo di produrre, nuovo modo di consumare, nuovo modo di trasformare l'ambiente in anche opportunità di sviluppo. Quella sfida si porta dietro ovviamente un orizzonte strategico che probabilmente nessuno di noi da amministratore vedrà direttamente realizzato, ma che è non solo il lavoro e il futuro dei nostri figli, ma anche la cifra su cui andare a infilare ogni investimento, ogni ragionamento, ogni strategia da qui i prossimi è un'attività.